Uno dei più ricchi cartelloni di iniziative e di eventi dell'estate nella provincia d'Arezzo e tante iniziative per tutte le età per diverse tipologie di pubblico accanto a quelle che sono le manifestazioni storiche che sempre ci sono state nel comune di San Giovanni Valdarno, il Festival Oriente Occidente, Opera Viva, Valdarno Jez, anche poi iniziative legate all'associazionismo locale. Quindi è importante l'apporto di tanti soggetti che hanno concorso alla messa appunto di questo cartellone di eventi e di iniziative, quindi a partire dalla Proloco, l'Associazione Residenti Centro Storico, i festival tradizionali ormai storicizzati nel nostro comune, il Centro Commerciale Naturale che per il mese di luglio ha programmato una serie di iniziative e di attività nei cosiddetti mercoledì di luglio e a questi poi si aggiungono nuove entrate. Da quest'anno anche le iniziative organizzate al Convento di Monte Carlo dalla Fondazione BEST. La Proloco supporta un po' tutti gli eventi, ci fa piacere anche perché, come diceva il sindaco Valentina, quest'anno c'è stata veramente tanta sinergia tra le associazioni e tanti hanno partecipato per fare uno dei cartelloni più importanti, oltre 30 eventi. Diciamo che la Proloco è sempre a disposizione per cercare di supportare tutti gli eventi. Mi farebbe piacere fare un focus sul giovedì 14 dove la Proloco è in prima persona nell'organizzazione di The Voice Senior con i finalisti, uno con Walter Sterbini, che a parte è un finalista, ma è un grande San Giovannese, ma poi la presenza di Fiero Cotto e Beatrice Pasquali e un cast di strumentisti veramente di alto livello. Abbiamo un cartellone veramente molto ricco, in modo particolare via San Giovanni abbiamo due big del jazz internazionale, addirittura un concetto, una data unica in Italia, che è quella di Melissa Aldana, prossimo lunedì, lunedì 4 luglio. Poi abbiamo il 18, uno dei più importanti batteristi a livello internazionale, con il suo gruppo, che è Oracio e il Negro Hernández. Sono due grossi appuntamenti importanti. Nada ha partecipato a altre edizioni dell'Oriente Occidente, ogni volta però propone un progetto nuovo e siamo molto contenti di ospitarla nella bella location di Piazza Masaccia. Infatti ne abbiamo mandato le foto, era tutta contenta. L'altro appuntamento è il 25 luglio, con Banda Bardot e Cisco, l'anno scorso dedicamo Oriente Occidente alla memoria di Enriquez, cantante di Banda Bardot, e quest'anno siamo molto contenti di poterli ospitare con questo nuovo progetto che li ha rimessi in pista.